Nel ricordare gli anni passati a Brescia mi commuovo, una squadra di grandi uomini prima e giocatori poi. Ricordo con affetto Gino Corioni, una persona vera e per bene. Per me è stata una gioia immensa allenare una società storica come il Brescia. Colgo l'occasione dei 110 anni del club per salutare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e che continuano a farlo e dare un grande abbraccio a Massimo Cellino. Non dimentico i tempi vissuti a Cagliari e gli anni vissuti insieme. Un saluto ai miei giocatori e a tutte le persone che hanno lavorato e lottato con me. Un pensiero anche al caro Vittorio che ti fa da lassù.